Chiude la moglie in casa, la ricetta di Savoriti per battere la crisi, rapinata in casa da quattro balordi. Ben trovati al Tg, un operaio di 46 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglie e lesioni, era contrario alla decisione della moglie che voleva andare a lavorare come collaboratrice domestica per guadagnare qualche somma di denaro e insistendo la donna in tale proposito, prima l'ha colpita con due pugni in faccia e poi l'ha chiusa a chiave in casa. Queste le accuse che hanno portato anche al trasferimento della quarantenne dei figli di 10 e 8 anni in una struttura protetta, da dove il figlio maggiore è scappato per ritornare a casa. I fatti in una zona di campagna al confine tra Frosinone e un paese limitrofo. A breve termine, reinvestimenti e innovazione e a medio termine la stazione ferroviaria dell'alta velocità in Ciociaria. Questa la ricetta del nuovo presidente di un'industria Frosinone, Corrado Savoriti, per il rilancio dell'industria dell'occupazione in provincia. I numeri dicono che bisogna agire subito 4 milioni di ore di cassa integrazione nel primo semestre del 2024, oltre il 60% del Lazio, i nuovi contratti di lavoro a termine sono 8 su 10 e soprattutto c'è la situazione della Stellantis di Piedimonte San Germano che rischia di deflagrare travolgendo l'indotto. Anziana rapinata in casa a Monte San Giovanni in località Fra Due Monti, da quattro banditi che l'hanno immobilizzata e hanno portato via una catenina d'oro che portava al collo e un centinaio di euro. Movida violenta, rissa tra egiziani in piazza restituta a Sora, volano pugni, calci, le sedi di un bar. I carabinieri arrestano un 19enne e un 28enne. Rissa tra stranieri anche al parco Baden Powell di Via Verdi a Cassino con un marocchino ferito alla schiena da un coltello. È stata inaugurata da Vittorio Sgarbi la Cure Medical Spa in una struttura all'avanguardia all'interno del Golf Club Lifiugi per coniugare sport e benessere. I carabinieri ritirano la patente a un 37enne di Alatri che guidava una Fiat Punto con un tasso alcolemico sette volte superiore al valore del limite consentito. La polizia stradale di Frosinone ferma il conducente di un camion frigorifero che trasportava 80 kg di pesce fresco e altri prodotti ittici con il frigo spento e dunque a temperatura non controllata, merce sequestrata e 5.600 euro di multa. I carabinieri di Rocca Secca eseguono un ordine di carcerazione a carico di un 38enne condannato in via definitiva a una pena di due anni e cinque mesi per reati contro il patrimonio. A risentirci alla prossima edizione.